Musica Il colo di Bordoccheo si trova a località Sigromigno in Monte, in provincia di Lucca. A Condurla è Barbara Chiellini, donna impegnata nel mondo del vino, tanto orgogliosa del suo terroir quanto desiderosa di raccontarne le eccellenze. Per questo a Bordoccheo uno dei punti forti è la sala degustazione con vista mozzafiato, nella quale Barbara guida personalmente le degustazioni, facendo immergere nuturisti e appassionati in una realtà tutta da scoprire. Dai circa 10 ettari coltivati a vigneto, nascono, grazie all'esperienza dell'enologo interno e alla consulenza dell'enologo Massimo Motroni, 5 vini, ognuno col suo carattere. Ci sono un bianco ed un rosso Colline Lucchesidoc, di taglio tradizionale, Bordoccheo rosso, a base Sangiovese, e Bordoccheo bianco, fatto con Trebbiano e Vermentino. Seguono due riserve, dalle etichette eleganti e con delle delicatissime capsule disegnate con i motivi del Duomo di Lucca. Picchio, doc Sangiovese a lunga vinificazione, che fa 12 mesi in legno altrettanti in bottiglia, e Bianco d'oca, IGT Toscana, un bianco strutturato, frutto di un taglio di Chardonnay e Vermentino bianco, con una punta di Sauvignon Blanc che gli dona dei particolari aromi tropicali. Infine c'è quinto, il vino da uve stramature di Trebbiano, una chicca da veri intenditori, che con la sua dolcezza contenuta e la leggerissima tannicità, è un vino unico nel suo genere. In questa azienda, dove il punto forte e il rapporto qualità-prezzo, è possibile anche soggiornare in un elegante agriturismo dotato di piscina e barbecue, già diventato meta preferita di numerosi aficionados italiani e stranieri. Una realtà aziendale a tutto tondo, quindi, dove si può vivere una full immersion nel territorio lucchese, facendo in realtà un regalo alla vostra e una passione, e scoprendo da vicino le eccezionali peculiarità di Colle di Bordoccheo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!